In questo territorio nessuno della classe politica aquilana ha detto una parola, nessuno si è schierato perché contro la curia guai all'Aquila alzare una voce, invece per noi no, infatti abbiamo attaccato uno striscione che ha scritto prima il lavoro, poi le case e poi le chiese. All'Aquila qualcosa deve essere andato storto, come è tutto dall'inizio, perché è l'unica città questa dove tutto va al contrario. E di fianco la chiesa, la caserma, la guardia di finanza, perché questo vogliono, chiese, caserme, istituzioni, conti, per tenerci invigliati. Per Gaglia, ma questa non è una città pacificata, mettetevelo in testa, lotteremo per il lavoro, per le case, lotteremo per i diritti, non vi illudete, non vi illudete. Per Gaglia, ma questa non è una città pacificata, non vi illudete, non vi illudete, non vi illudete, non vi illudete, non vi illudete. Per Gaglia, ma questa non è una città pacificata, non vi illudete, non vi illudete. Qui sono tutti i bari, sei tutti i fogli, e poi gli oci, i ghiacchi, se OSO così i coglioni.